Penso che abbiamo fatto vedere una buona palla a mano, più o meno quello che abbiamo fatto vedere nel nostro girone, niente di diverso e oggi siamo stati un po' avvantaggiati perché Camerano ha fatto riposare i suoi giocatori migliori, giustamente per le prossime partite e questo ci ha permesso di fare molte rotazioni, abbiamo fatto il meglio che potevamo e è stata una partita gestita fin dall'inizio ripeto, abbiamo giocato un'ottima palla a mano, adesso ci riposiamo per domani domani dopo domani abbiamo le altre due partite del girone che sicuramente spero che saranno un po' più duro rispetto ad oggi perché ovviamente i giochi poi si cominceranno a decidere, tutti vorranno fare gli punti possibili e penso che dobbiamo continuare così, non ci nascondiamo e faremo il nostro meglio Sicuramente recuperare l'energia è quello che ci vuole, è un esordio ovviamente inaspettato per noi perché è la prima volta è affascinante, posso dire, dal mio peso è affascinante, sicuramente il 5 ha fatto un'ottimissima partita facciamo tantissimi complimenti a loro, buona fortuna per loro sicuramente, per voi speriamo in prossima partita di dare meglio, più concentrazione e evitiamo di portarla a casa speriamo speriamo